La gravidanza di Clizia in Corvaia, che diventerà nuovamente mamma, ha scombussolato positivamente gli equilibri di casa Ciavarro. La mamma di Paolo, ovvero la grande attrice Eleonora Giorgi, una volta appresa la notizia del nipote in arrivo, ha deciso di tornare a vivere a Roma. L'ex moglie di Massimo Ciavarro ha infatti lasciato la capitale qualche tempo fa per una nuova vita fuori metropoli. Ma la splendida news ricevuta nei giorni scorsi ha convinto la mamma di Paolo Ciavarro a fare nuovamente capolinea, a Roma. L'attrice ha infatti acquistato una nuova casa per vivere vicino a Paolo e Clizia, che intanto sono in attesa del loro primo figlio insieme. Tramite un breve video pubblicato su Instagram Eleonora Giorgi ha fatto fare un mini tour della nuova abitazione. Ha i suoi follower. Con i figli, vicino ai figli, casa nuova. La grande e iconica attrice, che ha rivelato il modo in cui ha scoperto che diventerà presto nonna. Ha fatto scattare l'entusiasmo della nuora Clizia, che su Instagram ha espresso tutta la sua gioia. Sì, la famiglia unita, ha scritto l'ex moglie di Francesco Sarcina.